Buongiorno, oggi vi faremo vedere come fare la pasta al nero di seppio dalla quale possiamo fare i tagliolini o i ravioli Allora, ci servirà un chilo di farina, sette uova e su un chilo di farina ci mettiamo 12-16 grammi di nero di seppio alle bustine che troviamo al supermercato Mi raccomando, indossate i guanti perché come vedete il nero sporca e macchia Allora, nella nostra planetaria buttiamo la farina e il sale il nero di seppia con le uova e adesso ci spremo un'altra bustina Prendiamo la farina per pulirci le mani così togliamo tutto il nero e va a finire nella nostra pasta e non abbiamo spreco vedete come va via con la farina? a posto possiamo togliere i guanti impastiamo è come una semplice pasta all'uovo quando sarà amalgamata tutta fermiamo il nostro impasto ok facciamo partire lentamente ecco iniziamo con poche uova perché di solito io sulla pasta all'uovo su 100 grammi ci metto un uovo però essendo il nero di seppia liquido se mettiamo troppe uova dovremmo aggiungere farina quindi se ce n'è bisogno aggiungeremo farina e uova in corso vedete sta iniziando ad amalgamarsi a farina 00 vedete ora si è impastata la nostra pasta la togliamo vedete come è bella nera ok vedete bella morbida anche ora noi la mettiamo a riposare in frigorifero a volte nella pellicola o in un panno umido per almeno mezz'ora più riposa più elasticità questa era la nostra pasta e quindi sarà più facile da stendere ok chiudiamo tutti i lati di modo che non si secchi e la mettiamo in frigorifero ok ora la nostra pasta è riposata vedete è passata circa un'oretta nel frattempo io ho preparato il ripieno perché noi faremo dei ravioli nero di seppia questo ripieno l'ho fatto con del merluzzo semplicissimo bollito ho bollito delle patate per legare il nostro ripieno sale, pepe amalgamato ed è pronto il nostro ripieno ora vi farò vedere come fare i ravioli ok prendiamo un pezzo di pasta e lo stendiamo con il nostro mattarello il più sottile possibile o con il mattarello o comunque con il nonna papera e poi vi farò vedere come fare i nostri tortelli ok adesso è che è bella fina ecco io per stenderla ci ho messo della semolina per non farla afficcicare ho preparato dell'uovo vedete sbattuto semplicemente e spennello alla nostra pasta per far sì che il tortello quando andiamo a piegarlo dargli la forma che vogliamo si attacchi e non si apra durante la cottura perfetto adesso o con le mani o con l'aiuto del cucchiaino facciamo dalle piccole palline e mettiamo il nostro ripieno al centro e distanziate circa 3-4 cm così vedete e poi possiamo piegarci sopra il resto della sfoglia oppure vado a prendere un coltello lo tagliamo e gli diamo la forma che vogliamo allora al coltello perfetto tagliamo così la nostra sfoglia e ci sovrapponiamo questo pezzo e li facciamo rotondi allora vi faccio vedere alcuni a tortello due a tortello così facciamo il quadrato pieghiamo il triangolo così vedete ho piegato il triangolo e andiamo ad unirlo al centro e uscirà un tortello così vedete oppure possiamo farli li pieghiamo a metà e con il nostro tagliapasta lo tagliamo a mezza luna così vedete e lo schiacciamo di modo di far uscire l'aria perfetto oppure con la pasta la sovrapponiamo tanto è stato passato l'uovo quindi ci si attaccherà così passiamo con le dita e tagliamo con il nostro tagliapasta e abbiamo il nostro tortello ripieno di pesce al nero di seppia queste sono le tre opzioni che vi ho fatto vedere oggi così vedete tortello rotondo mezza luna che è molto bello oppure forma di tortello tortellino e la andremo a servire con una salsa al pomodoro basilico semplicissimo perché già saprete sia la pasta che il ripieno pomodoro basilico semplicemente e saranno buonissime io vi saluto ci vediamo al prossimo video ecco vedete questi qua sono i nostri ravioli al nero di seppia con la salsa pomodoro basilico questo è il prodotto finito dei ravioli che abbiamo fatto prima fai un sorriso posso andare? ti faccio la bocca perfetto allora i video che avete fino ad ora visto sono girati tutti nei nostri laboratori noi siamo dai Tom Food e Bar a Biale V2IC 216 a Roma quando volete noi siamo qui aperti tutti i giorni da lunedì alla domenica dalle 7 alle 21 e i venerdì facciamo anche le nostre cene quindi benvenuti grazie